Chiede la convocazione di un tavolo di confronto la Segreteria Territoriale Provinciale Snalve in merito al mancato avvio al lavoro per l'annualità 2023 per gli ex RMI. Una questione che interesserebbe anche numerosi lavoratori che operano nei territori di Enna e Caltanissetta. L'organizzazione sindacale nel comunicato stampa si rivolge al governo regionale. E poi ancora si legge, circa 1000 lavoratori attendono da tempo in memore soluzioni per la loro sorte lavorativa e piace sottolineare che questa scrivente organizzazione sindacale segue la vicenda lavorativa dei predetti operatori avendo formulato numerose proposte. Sottolineandosi, precisa ancora prima fra tutte questa di costituire un bacino nel quale far confluire le risorse umane professionalizzate con la loro possibile stabilizzazione. Nel frattempo arrivano notizie positive dal Comune Nisseno e appena arrivata l'autorizzazione della Regione a riattivare le procedure per riassumere gli ex RMI, afferma l'assessore a ramo Cettina Andaloro, che ribadisce, è appena arrivata e noi siamo già pronti per attivare e quindi riassumere tutto questo personale.